Cosa volete che siano 200.000 euro per un politico che si tiene tutto lo stipendio? Per me invece sono tantissimi perché lo stipendio non me lo sono mai tenuto. Qua Berlusconi mi cita a livello civile in un processo che inizia con la mediazione. Berlusconi-Tolinelli e mi cita per una somma non inferiore a 200.000 euro. E volete sapere quali sono le infrazioni, le violazioni penali e civili che avrei commesso dal 2017 al 2019? Diffamazione ed illecito civile commessi, queste sono le parole proprio dell'avvocato di Berlusconi, con dichiarazioni pubbliche rese attraverso internet. La controversia è richiesta da Silvio Berlusconi per condannare la parte chiamata risarcimento di danni non patrimoniali. E questi danni, eccoveli qua, leggete bene qua, non devono essere inferiori alla somma di 200.000 euro, come se io avessi 200.000 euro. Forse Berlusconi non sa che noi ne abbiamo restituiti molti di più, io ne ho restituiti molti di più, mentre lui invece me li chiede, quindi potrebbero essere anche un milione chi li ha tutti questi soldi, perché avrei ricordato nel corso di post, tweet e altro, che è un condannato in via definitiva per frode fiscale, perché l'ho definito impresentabile, perché l'ho definito bugiardo e perché ho abbinato alla sua persona la parola barzelletta. Mi ha citato in giudizio per non meno di 200.000 euro. Questo significa, questa è la conseguenza, e sono le conseguenze che capitano a persone oneste, come sottoscritto, che hanno fatto politica per l'interesse dei cittadini e non per gli affari propri. Difatti io non ho i soldi da dare a Berlusconi nel caso in cui vincesse questa controversia, questa azione civile nei miei confronti, perché sono stato onesto, ho mantenuto le promesse, sono stato coerente e ho restituito metà dello stipendio e tutti i soldi ne ho spesi ben oltre i 200.000 euro, perché semplicemente ho avuto il coraggio, come tanti, di dire che c'era un politico che non ha fatto bene gli interessi dei cittadini con i quattro governi Berlusconi e che ha avuto delle problematiche, chiamiamole così, con la magistratura. E ora mi trovo a dover pagare migliaia e migliaia di euro un avvocato per sostenere un processo civile. Volevo semplicemente dirvi questo. Ci rido sopra, ho le spalle larghe, ma non è semplice, perché non abbiamo il paracadute dei tanti soldi che hanno gli altri politici. Siamo cittadini normali, non dimenticatevelo mai, non dimenticatevelo mai.